Il brand Abruzzo passa per l'aeroporto con nuove rotte per Torino e Mosca. Su proposta dell'assessore al turismo Mauro Febo, il 14 agosto la giunta regionale ha adottato l'atto di indirizzo per la promozione e la commercializzazione del brand Abruzzo sulle rotte aeree nazionali e internazionali. Il provvedimento è propedeutico al bando pubblico di prossima approvazione per la selezione di compagnie aeree nazionali ed estere e o propri concessionari di spazi pubblicitari per l'affidamento di un servizio triennale di promozione e commercializzazione del brand Abruzzo nei mercati di riferimento per il periodo 2019-2022 e per un importo di un milione e mezzo di euro. L'obiettivo è il rilancio e la valorizzazione turistica e economica dell'Abruzzo per mezzo di una comunicazione specifica mirata al rafforzamento delle immagini territoriali e all'intercettazione di nuovi flussi turistici a breve, medio e lungo periodo. Un provvedimento, afferma l'assessore Febbo, che smentisce le recenti voci circa un possibile depotenziamento del nostro aeroporto e che si aggiunge a tutte le importanti attività di rilancio dello stesso, non ultime l'apertura di nuovi punti d'accoglienza, l'offerta di nuovi servizi che stanno rendendo un'immagine di rinnovate efficienze e modernità allo scalo. La regione, con le maggiori aziende manifatturiere del centro-sud e con potenzialità turistiche di primissimo livello, ha necessità di collegamenti nazionali come Torino e internazionali come la Russia, la Germania e magari anche la Cina. L'obiettivo, conclude l'assessore regionale, è arrivare entro questo mandato al milione di passeggeri. Ciò consentirà all'aeroporto d'Abruzzo di avere una propria autonomia finanziaria con conseguente ricaduta di risorse sul sistema di accoglienza trasporto al pari di importanti scali europei. Siamo certi che con la campagna promozionale che stiamo preparando per la prossima stagione, unitamente alla possibilità di utilizzo delle risorse della programmazione UE 2021-2027, e si possa dare una vera svolta, conclude l'assessore, all'economia turistica e industriale della nostra regione.